Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nonostante si reduce da due risultati utili consecutivi ottenuti contro avversari e di ottimo livello, il Marina è sempre più distante dal distacco utile per guadagnare il play-out. In ogni caso, il pareggio contro il Montefano dà morale. È stata una bella partita, è stata combattuta con occasioni da entrambe le parti. Alla fine è finita 0-0, forse è il risultato giusto che ci ha dato una speranza in più, un punto in più verso il nostro obiettivo. Gabrielli, il principe del Marina, tra i giocatori più in forma e per il quale è stato posto qualsiasi veto per eventuali cessioni o prestiti, è molto legato a mister Giorgini. Giorgini è un allenatore per me importante perché lo conosco dai tempi della Castelfrettese. Ci stimiamo reciprocamente e lo ringrazio per l'opportunità che mi sto dando. Ora i biancazzori si trovano a 14 punti del Fabriano, terzo ultimo in classifica, e domenica dovranno andare a vincere in trasferta contro il Castelfidardo, un'altra delle formazioni da puntare per il play-out. Sicuramente sarà una partita, soprattutto una lotta prima di tutto, perché a noi servono assolutamente questi benedetti tre punti che cerchiamo dall'inizio del campionato e loro non ce li lasceranno facilmente. La speranza ce la dà la matematica, però noi sappiamo bene che più il tempo passa e meno punti a disposizione ci sono. Sarà una partita quasi da dentro fuori. Dal trequartista bianco-azzurro tutta la tifoseria si attende il ritorno al gol. Il gol arriverà magari nel giorno in cui vinceremo anche una partita, quindi sarebbe bello segnare e far vincere la squadra. Per domenica io come al solito sono molto positivo e credo in tutta la squadra e credo che anche io possa dare il mio contributo e fare un ottimo lavoro.